No, no, non l'avessi mai trovato Ma che cazzo? Chi è che sto diffugando il camera? Se poi partivi per meglio cercare non li trovavi tutti dentro in città Cazzo, volevo fare una scorezza Ah, cazzo Sto rischendo di cagarmi addosso LOL, roll back Ok C'è un'altra assista, hai una saccosa Oh, dai, dai Che f***a Non lo favo a morte Schifo Che f***a ragazzo No, no, non l'avessi mai trovato Ma che cazzo? Chi è che sto diffugando il camera? Ahahah Ahahah Oh 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 un po di pettiri no no ma che cazzo chi è che si è diffusato non so questo è ciò che ne temo ma chi è che lascia il cem ogni volta che ha avuto la squadra eh regà io pure devo fare coltino l'ho di toccato un po di pettiri ho visto da quel cazzo di video comunque il video ti trovo davanti però il riassunto è tutto sul una trucida un po di pettiri magari una decina un po di pettiri un po di pettiri a me serve qualcuno che si picca qualcuno boxer al p no no ma che cazzo un po di pettiri un po di pettiri un po di pettiri un po di pettiri